E' un ragazzo che ci ha fatto un campionato a Macera, in un ambiente difficile come Bari, e c'ha il giusto carattere per giocare nel basso, voglio dire altro, poi magari di esaltare i giocatori nostri, io ti esalto, non è vero, però l'anno scorso è stato uno dei migliori difensori della Galaxia 1. Innanzitutto buongiorno a tutti, io prediligo giocare il difensore centrale, ma l'anno scorso mi sono andato a giocare in terzino, in una posizione che comunque è leggermente più defilata, ma non trovo particolare difficoltà a giocare in quel ruolo. Sapevo la volontà del direttore della società comunque di prendermi, c'erano molti ragazzi che c'erano qua, li conoscevo, li ho conosciuti, avevano la mia stessa età, e quindi ci ho cercato in passato contro. E comunque è una squadra ben assortita, con un listo di giovani e ragazzi già fermati, giocatori già fermati in questa categoria. Sicuramente la fiducia data dalla società e dal direttore espressa nei miei confronti mi ha indotto a pervenire in questa società. Grazie.